Nelle mani di nessuno la lotta di uno sbirro antimafia in un paese malato è il titolo del secondo libro di Gianni Palagonia presentato questo pomeriggio alla libreria Cavallotto una nuova occasione per parlare di mafia e soprattutto di lotta alla mafia questo è un libro che dà la dimostrazione come se lo Stato decide di intervenire con mezzi mettendo a disposizione anche i mezzi economici a polizia magistrati eccetera certi fenomeni si possono combattere e si può arrivare a delle soluzioni Una presentazione anomala considerato il fatto che l'autore non è presente non si tratta però di un capriccio dettato dalla fama ma di un'esigenza visto che Gianni Palagonia è il nome falso di un poliziotto vero costretto a nascondersi dietro uno pseudonimo e fuggire dalla Sicilia emigrando al nord dove vive sotto copertura per proteggere se stesso e i propri congiunti Lui negli anni 80-90 faceva parte della squadra mobili di Catania era un elemento di spicco a livello investigativo naturalmente la sua vita si complicò moltissimo con la cattura dei più grossi boss della nostra zona e fu costretto ad andare via Un libro a cavallo fra cronaca, saggio e romanzo dove si racconta la vita di un poliziotto diventato scomodo per aver lottato contro la criminalità organizzata e contro il terrorismo delle Brigate Rosse ma anche la vita privata di un uomo che si sfalda nell'alienazione e nella solitudine per aver guardato il corso di un poliziotto vero